La 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 Cazzo raga, arriva la pula, arrivano gli sbirri, devo scappare Devo scappare Calma Forse sono ancora a salva raga, non mi hanno trovata, ci siamo E bella a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Allora ragazzi, sicuramente dal titolo della miniatura non ci avrete capito assolutamente un bel niente Ma fatemi spiegare bene che cosa è successo in questa partita e cosa intendo per Ho giocato con tre poliziotti su Fortnite, ve lo spiego subito Per chi mi seguiva proprio l'anno scorso, all'inizio di gennaio, comunque anche fine dicembre Ho giocato per circa 6-7 mesi su GTA Roleplay, dove io ruolavo come poliziotta E appunto nella polizia ho avuto modo di conoscere diverse persone molto molto simpatiche Che oggi appunto sono miei amici Tra cui in questo caso appunto c'è Mezzogiorno Xavier e anche Gianco che appunto era un'altra persona con cui ruolavamo in polizia Quindi sì ragazzi, ecco perché di questo titolo Andrò appunto a giocare su Fortnite con tre miei amici con cui ho ruolato in polizia per tantissimo tempo E ci siamo divertiti veramente tanto Oltre al fatto che essendo che loro comunque non sono giocatori di Fortnite Come magari lo sono io che appunto ci gioco dalla season 1 Comunque abbiamo fatto 31 bombe in squad senza costruzioni Quindi tanta 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 roba Ma prima di iniziare con il video ragazzi vi invito da subito a lasciare un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale E mi raccomando attivate la campanellina E vi ricordo che mi trovate tutti i giorni dalle 17 in poi sul mio canale Viola Dove streamo tutti i santi giorni Quindi ragazzi vi aspetto anche solo per un saluto Trovate il mio canale qui in descrizione Ma ora ragazzi non perdiamoci in chiacchiere E andiamo a giocare con questi fantastici poliziotti Una buona visione Andiamo a spinnaco, lascio un po' di casino Vai Sì, sì, io credo che è il weekend Ah, credo che è il weekend? Yes, yes Perfect Ma c'è qualcuno sulle mie pinnacoli? No Boh, eppure ho visto un sacco di gente all'interno No, stanno alla torre Senta la torre fuori pinnacoli Stavano là sicuro 100-100 Eh, ma lì sparono i bot No, no, c'è gente ragazzi C'è gente, sì, sì Ok, dove? Where? Where are they? One shot, morto Tranquillo Mario, non ti incazzare così Non gli sparare è pure da morto, poverino Guarda che ladro Sì, però Morto un altro? Ma io non l'avevo Morto un altro ancora? Manca l'ultimo Eh, ma affatto, stupiezza e merda Se mi finisce tilto No Cioè, raga, veramente mi ha dovuto finire sto stronzo Ascendo, ascendo Dove sta, dove sta, dove sta? Ora, ora vola Non cado Gli altri sparano da destra Vodo Tra cado uno Distrutto, raga Non cado un altro Sono tutti ria Sono rimasti due Quindi ne manca uno? Eh, sì, ma mi sa che quello non sta Non sta con loro Mi sarebbe uno colpo in mitra perché sono cesso Sì, anche se non sta male con i colpi Opa Ma noi sono sotto il ponte, figlio, ti giuro Mauro l'ho aiutato tre volte, quello lì sopra? Come mi ha fatto col pompa, raga? Io non lo vedo, raga Morto uno No, no, morte, morte Ma quindi faccio parte del team? Caro armato sta rimasta Venga qua, signor Maui Che adesso subito Venga, venga Eh, non so come mettere in posto Grazie Morto uno del caro armato Morti due, ragazzi Morti due, morti Io? Sì Sì Uno sopra Morto Ha un team, eh Ma sono sempre quei E Gingo, se mi lascia il tetto della casa È top number one Perché tengo il termico C'è uno nella casa, attento Quale casa? Eh, la casa... No, non dicevo Sono quelli qua Sono quelli che mi vogliono ammazzare Ce l'hai, ce l'hai Noccato uno, ragazzi Noccato uno Sul tetto 32, tutti bianchi 40 Ho fatto male uno Ho un'idea, un'idea, un'idea Gli brucio la casa, attenti Gli brucio la casa, attenti Stanno bruciando Sono troppi Atterrato Morto un altro Manca l'ultimo Morti due, morti due Ma io sono pure medica Sì, sì, fatti gli sporsini E poi vi sparo le splash Ah, no, quattro Ok, lo so, io prendo io Quattro Vabbè, allora me ne va Sono le bottiglie sfacive Xavier, perché le prendi? No, no, no Quelle non le prendo Non le prendo Le prendo magari Chi è interessato Nel dubbio le regaliamo a mezzo Perfetto Lui accetta tutto Me l'ha sempre detto Ma le bevi pure mezzo poi Ovvio Perfetto, perfetto Devi iniziare la giornata Non posso avere latte Sono proteine Che schifo, annacce Eh, no, vabbè, proteine Purtroppo Cioè, purtroppo Oddio Davanti invece, gente Noccato uno Noccato un altro Non posso mai sparare Perfetto Ma sai, capito Il spara a me Capito, capito Come funziona Cioè Lo state sparando voi Io ti voglio fare Giro da dietro Spara a me Dici che è proprio Un strunz Ma proprio assai Oh, spara a mezzo Eccoli in open 30 Qua si craccato uno Noccato uno 18 18 Ah, boh Giuffa Ah, giuffa 180 danno a questo qua Deve essere mio Mannaggia Non riesco a pingare Ok, vedo Ah, anche lo vedo Noccato uno Noccato uno Noccato uno Sì Manca un'altra qua Manca l'ultimo 19 19 Ok Manca l'ultimo player Abbiamo mentre il game Allora, l'ultimo player Siamo a 30 kill precise Spaccata Ah, bene C'è già 30 Ne segna Ah, non sono già 30 Si bug Ne vedo 29 Ma Pidiamo una spada D'arte Ciascuno E lo busciamo Con la spada Latter Vai No, framo veramente Dai, dai Che ne fotte Ma il ragazzo sta a questa spada Sarà in qualche palazzo Allora, una sta qua No, due ce ne stanno Uno qua Uno qua E uno qua Oh, vedi Ah, beh, la pure quella viola Dai, ci sta Vedi qua Gia di Gia di 1 B1 Marco Gioni Devecchi, devecchi, devecchi Devecchi, devecchi Guarda, è come ci mira Vada qua Oh, capriola Ah, posso fare così col jet Guarda che... Eh, no, non lo sapevo sta roba Non l'ho mai usata Questa spada Vedi Oh, ho fatto uno Scusa, come si fa? Ah, si prema L'ho già trovato? Non mi dire che sto facendo la fisica Molto possibile Dai La fanno tutti Ma è noioso L'ho visto in live da uno streamer Sì, ma la fanno molti Ma, ok Non lo spara a mezzo o non lo spara? No Ma nezzo Ci ha rovinato, ci ha rovinato il divertimento Dove fare, scusate Volevamo uccidere con la spada e laser La spada Vabbè, te in tutto chi, dai, ci sta Il cili In realtà Mauro l'ha fatta apposta Da prendersi la kill Che ne aveva zero Giusto? Che 4100 Non ne avevo zero Ne ho fatto sette Sette, sei, non lo so Bene ragazzi Siamo arrivati alla fine del video Come avete visto Appunto abbiamo fatto 31 bombe in squad Abbiamo veramente Spaccato ragazzi Tutta la lobby E ci siamo divertiti Davvero tantissimo insieme Soprattutto io Che comunque Non giocando al push GTA roleplay Diciamo che non mi sento Con questi miei amici Tutti i giorni Quindi poter rigiocare con loro Dopo tanto tempo A distanza di un anno Su un gioco comunque Che è il mio gioco È qualcosa che mi fa davvero Tanto tanto piacere E ovviamente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto E che questa partita vi sia piaciuta Vi raccomando Fatemi sapere qui sotto nei commenti Se volete altre partite insieme A questi miei amici Noi ovviamente ragazzi Ci rivecchiamo in un prossimo video Se non avete ancora lasciato mi piace Ovviamente ragazzi Fatelo adesso Perché se no Men cazzo Dato ciò ragazzi Dalla vostra Krademister è tutto Ci rivecchiamo in un prossimo video Bella a tutti ragazzi